Ok, per soltare questo esercizio partiamo dalla posizione di quadrotteria, quindi mani sotto le spalle, le ginocchia le portate più indietro che potete, incrociate i piedi, mantenete bene il corpo attivo e da qua lasciate che il vostro dorso scenda, una volta che è sceso spingo il dorso verso il soffitto e ritrovo in posizione di partenza. Non dovete piegare le braccia.